Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Siamo pronti per l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dalla riete. I vostri piani di lavoro andranno a buon fine, ma dovrete ridimensionare talune aspettative e limitare per quanto possibile le spese. Toro, incapaci di escogitare una soluzione idonea di fronte a un problema, seppure banale, finite per rendere tutto terribilmente più difficile. Cercate di recuperare il vostro spirito pratico. Gemelli, potrete appagare il vostro spirito libero grazie alle prospettive che si intravedono all'orizzonte, molto vantaggiose per rendervi indipendenti. Puntate in alto e non accontentatevi. Cancro, una giornata tranquilla può esservi d'aiuto per riflettere, soprattutto riguardo alle vostre reali aspirazioni confrontate con la realtà che vivete. Coinvolgete i familiari nei vostri progetti. Leone, qualche incomprensione in casa potrebbe causare un'atmosfera familiare un po' tesa. La tolleranza e l'elasticità vi aiuteranno a venirne fuori. Anziché dare un'immagine di voi che non vi corrisponde, mostrate a tutti la vostra grande generosità. Vergine, non ponete limiti alla provvidenza né all'immaginazione. Nessun sogno si avvera se non siete voi i primi a credere che possa realizzarsi. Bilancia, metterete in gioco la vostra creatività con nuove idee e iniziative da collaudare. Vitalità, allegria e tanto desiderio di contatti umani. Vi muoverete con vivacità e con entusiasmo. Scorpione, afflitti dal timore di perdere terreno, rischiate di ingigantire i problemi. Siate obiettivi ed evitate di assumere toni di sfida con chi vi è accanto. Sagittario, farete un po' di fatica per essere contenti, vi toccherà metterlo in conto. Sul lavoro saranno più le grane che le soddisfazioni. Capricorno, avete bisogno di fare un po' d'ordine fuori e dentro di voi. Cominciate col sistemare i milioni di fogli e foglietti sulla vostra scrivania. Attenzione a non mischiare gli affari con l'amicizia. Acquario, una prima occhiata vi basta per stabilire l'affidabilità di certe persone. Seguendo il vostro istinto non correrete alcun rischio. Dovrete intanto adottare un piccolo stratagemma per combinare un incontro. Pesci, nonostante la vostra aria trassognata, state dimostrando che all'occorrenza sapete tirar fuori grinta e decisione, un sì unanime ai vostri progetti. In serata potrete trascorrere ore molto piacevoli con gli amici. Grazie. 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 Grazie.